Non sono previsti al momento Open Day in provincia di Salerno nei prossimi giorni, ma intanto c'è una buona notizia dopo l'appello per la mancanza di dosi che era stato registrato su più fronti. Questa mattina all'Asl di Salerno sono arrivate 36.000 dosi che con le 7.000 già in possesso dell'azienda sanitaria significano la possibilità nelle prossime ore di somministrare 43.000 vaccini. Secondo una nota ufficiale dell'azienda sanitaria saranno tutti destinati principalmente alla seconda dose. Solo una minima parte andrà per le persone che ancora non si sono mai vaccinate. In provincia di Salerno la quota dei cittadini che ha ricevuto il vaccino è di 1.200.000. In termini percentuali vale a dire che il 68% della popolazione che si trova residente nel comune capoluogo è già stata vaccinata con almeno una dose ed è del 62% invece la media della popolazione vaccinata con almeno una dose sul restante territorio della provincia. Si punta ad uno sprint finale, soprattutto prima della riapertura delle scuole. Su questo aspetto il presidente della regione Campania ieri è stato chiaro. Riteniamo indispensabile evitare la didattica a distanza nelle scuole della campagna, ha detto Vincenzo De Luca, sarebbe davvero un danno grave per i percorsi formativi e di socializzazione dei nostri studenti. Per raggiungere questo obiettivo, ha ribadito il governatore, è essenziale sviluppare una campagna di vaccinazione mirata per la fascia di giovani tra i 12 e i 19 anni.